per cambiare la temperatura nelle macchine da caffè oreca la procedura è la seguente macchina spenta si preme il pulsante espresso e si tiene premuto e si accende la macchina sempre tenendo premuto espresso dopo 5 6 secondi comparirà un numero con un più e meno sul display quindi in questo caso abbiamo meno 2 utilizzando questo selettore questo potenziometro possiamo andare da meno 6 a più 6 a step di 2 quindi meno 6 meno 4 meno 2 0 che è la temperatura nostra di default più 2 più 4 più 6 ovviamente consiglio e poi rilasciando il pulsante la macchina prende l'impostazione e siete a posto ovviamente consiglio di non impostarla più 6 se vi capita di fare tanti caffè di fila altrimenti rischiate di bruciarli quindi in quel caso è meglio che rimanete sulla temperatura di default se invece fate un caffè ogni tanto magari anche tanti durante l'arco del giorno ma ne fate uno ogni tanto allora è meglio lasciarla sul più 4 o più 6 a seconda del vostro gradimento grazie grazie